Ciao ragazzi, bentornati sul canale di psicologia cognitiva applicata. Tornano le neurorecensioni e oggi parliamo di una tematica che interessa sia la psicologia che il marketing. Parliamo di neuromarketing e il libro che andremo a recensire è proprio Neuromarketing di Federico Barberis. Ti ricordo che alla fine del video daremo tre punteggi, un punteggio di evidence based, quindi relativo alla scientificità delle notizie che troverai in questo libro, un punteggio di piacevolezza di lettura e un punteggio di fruibilità di lettura, quindi di quanto i concetti che sono presenti possono essere compresi anche da chi non ha delle basi in psicologia. Partiamo subito. Che cos'è il neuromarketing? Questa è la domanda che si pone l'autore all'inizio del libro e che cerca di spiegare. Ci sono delle differenze quindi secondo lui tra il marketing tradizionale e il neuromarketing. Il neuromarketing punterebbe di più sul fattore emozionale. Mentre il marketing tradizionale vedrebbe l'essere umano un po' come l'homo economicus, un concetto datato, un concetto che non ha più senso utilizzare ma che vedeva appunto i potenziali clienti mossi solo da bisogni prettamente economici o che comunque avrebbero dato loro un tornaconto. La variabile emozionale non era ancora stata presa in considerazione. Poi si prosegue con un riassunto molto veloce della teoria dei tre cervelli di McLean, triteriteriterita, che però non poteva mancare e finalmente al mi sembra quarto o quinto capitolo si arriva a qualcosa di veramente interessante che sono appunto i bias, gli errori decisionali che l'essere umano compirebbe in cronico. Non perché gli esseri umani sono stupidi e non ce la fanno ma semplicemente perché, come ti ho ripetuto tantissime volte, secondo Kahneman, vincitore di un premio Nobel per l'economia, per questa scoperta, per questa teoria che però è stata applicata nella vita reale con grande successo, secondo Kahneman l'essere umano avrebbe due sistemi per decidere sistema 1 e sistema 2. Il sistema 1 ci pone, che quindi è quello che ho utilizzato maggiormente nella vita di tutti i giorni, ci pone a dei bias, degli errori di ragionamento e sono proprio questi errori di ragionamento che possono essere sfruttati dal professionista o dall'azienda per incrementare le vendite. Chiaramente qui si apre tutto il dibattito relativo all'etica. Quanto è etico spingere una persona a prendere decisioni sapendo che l'essere umano è limitato e che quindi sbaglierà, che quindi farà in potenza quel ragionamento? Si parla anche di tecniche di neuroimaging, quindi per esempio le EG, per quanto riguarda sempre i processi decisionali, come reagisce il nostro cervello in determinate situazioni e ancora una volta viene sottolineata l'importanza delle emozioni e di ciò che un brand può suscitare. Diciamo che il manuale in sé è corto, però completo. Si parla quindi di pubblicità, si parla di come generare fiducia nei clienti, di come aumentare e utilizzare l'empatia e le varie emozioni, quindi l'importanza di queste e ci sono anche degli esempi di come sfruttare i bias, dei quali vi ho parlato prima, per incrementare le vendite in modo ovviamente responsabile. Questo sta al professionista ovviamente. È giunto il momento delle votazioni. Punteggio evidence-based? Io direi 4 su 5. Non c'è la bibliografia purtroppo, però tutto quello che viene dato è scientifico. Le informazioni non sono state prese da Topolino, ma appunto da riviste scientifiche o da libri divulgativi che tuttavia avevano solide basi scientifiche come per esempio i bias comitivi. Punteggio di piacevolezza di lettura 3 su 5, a mio modo di vedere, perché in alcuni casi è un po' macchinoso, ma è comunque un libro che consiglierei. E infine fruibilità di lettura 5 su 5. Chiunque non sappia nulla di psicologia o di marketing può tranquillamente approcciarsi a questo libro e leggerselo. Quindi, riassumendo, può essere un buon libro sia per i curiosi, sia per chi voglia avere qualcosa che assomigli ad una praticità, ad un capire come applicare determinati concetti. E ora, la mia opinione personale. Il paragone che si fa tra marketing e neuromarketing, oddio, io lo trovo azzardato, perché di fatto neuromarketing non è altro che il marketing di oggi. Per cui, che ci si metta neuro davanti per dare un'apparvenza di più scientificità, lascia un po' il tempo che trova. Tutte le tecniche che il libro descrive vengono utilizzate da chiunque al giorno d'oggi. Quindi, magari chiunque e da persone che di neuromarketing non hanno mai sentito parlare. In corsi di marketing, in corsi di formazione, queste nozioni vengono date e non per forza si parla della parte neuro, sottolineando comunque l'importanza delle emozioni e dei bias cognitivi. Se è interessato a leggere il libro, trovi il link qui sotto nella descrizione del video e trovi anche, ovviamente, il link a Kindle Unlimited. Con Kindle Unlimited potrai leggere gratuitamente questo piccolo manuale, molto curioso, e insieme a tantissimi altri libri. Il video è finito, ti ringrazio. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale, lascia un like, condividilo sui tuoi social media preferito e noi ci vediamo domani con il Brain Thursday, che l'Evities Based sia con te.